La vara pasquale, l'ultima cena, la storica scultura in legno e cartapesta, opera degli scultori napoletani Vincenzo e Francesco Biangardi, è pronta a partire alla volta di Roma. L'opera d'arte, tra le più note della settimana santa di Caltanissetta, dal 4 febbraio al 21 marzo sarà in esposizione al Molo E, area in barchi internazionali dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino. Il progetto espositivo è un'iniziativa del Comune di Caltanissetta in collaborazione con l'Associazione Unione Panificatori Nisseni, proprietaria della Storica Vara, progetto che gode del patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed è stato reso possibile grazie al contributo della Impedocle II, società di costruzioni di Ravenna. Il progetto rientra nelle attività di promozione del patrimonio storico e culturale della città. L'iniziativa sarà presentata durante una conferenza stampa che si iterrà lunedì 31 gennaio alle ore 10.30 nella Sala Espositiva delle Vare in via Napoleone Colaianni 54, nei locali sottostanti la parrocchia San Pio X. Parteciperanno alla conferenza stampa Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, Marcella Natale, assessore alla cultura al teatro e alla scuola del Comune Nisseno, Daniela Vullo, soprintendente per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta, Antonio Amico, presidente dell'Associazione Unione Panificatori Nisseni, Michele Spena, coordinatore del progetto, Roberto Morgana, presidente dell'Associazione Giovedì Santo di Caltanissetta, padre Onofrio Castelli, vicario generale della Curia di Caltanissetta. In modalità telematica da Roma prenderà parte alla conferenza stampa anche Giancarlo Cancelleri, sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.